Io personalmente mi sento bene quindi non mi posso lamentare di nulla, correre per due o per tre io penso che nel concetto di squadra ognuno deve correre anche per i propri compagni Io lo faccio volentieri, non ho nessun problema a fare un metro in più, penso che questa deve essere la mentalità nostra e delle squadre che vogliono salvarsi Penso solo a allenarmi, a giocare in campo, il resto conoscendo il calciomercato di gennaio sarà un calciomercato molto lungo Ma non su di me, su tutti ci saranno miliardi di voci quindi su queste cose però adesso sono disinteressato Calcoli come adesso secondo me sono inutili nel senso che abbiamo fatto una buona partita con le Fiorentina e abbiamo subito staccato per la sosta natalizia Adesso c'è da ricominciare e prendere subito un buon passo a partire dalla prima partita quindi adesso è importante far bene la prima partita Poi quello che viene dopo è sempre conseguente anche alla prestazione che viene fra due giorni quindi adesso dobbiamo concentrarci e fossilizzarci su questa partita qua che per noi diventa molto importante Grazie a tutti Grazie a tutti